Noto, autocarro rubato rinvenuto nei pressi del cimitero e è stato restituito al proprietario. La polizia di Stato del commissariato di Noto ha rinvenuto un autocarro oggetto di furto nel corso dei mirati servizi di controllo del territorio predisposto dal dottor Paolo Arena, finalizzato al contrasto dei furti in abitazione e in azienda personale del commissariato nella mattinata di ieri e ha preceduto il controllo di un autocarro parcheggiato nei pressi del cimitero comunale. Il veicolo non marciante, poiché presentava i fili dell'impianto di accensione tranciate, veniva restituito all'egittivo proprietario. Sono in corso ulteriore indagine per risalire al ladro del mezzo.